Se uno studente e hai ricevuto il codice promozionale per Compilazio Studium, ecco come puoi beneficiarne. Accedi al tuo account Compilazio Studium, quindi fare clic su Aggiungi acquisto accrediti. Cliccate poi sul link sponsorizzato dal vostro istituto, inserite il codice che vi è stato inviato dal vostro istituto ed eccolo qui, Compilazio vi ho offerto dei crediti. È ora possibile analizzare i documenti. Guardate altri video per saperne di più sui servizi di Compilazio.